A Montano 225 mila euro gli introiti della biglietteria del teatro maggiore. I dati sono aggiornati al 20 dicembre e riguardano tutto il 2018. L'anno che si sta concludendo è stato importante perché ha segnato anche la nascita della fondazione con una notevole partecipazione regionale che gestirà il teatro al posto dell'amministrazione comunale. Il pubblico ha dimostrato di aver premiato la nuova realtà tanto contestata e oggetto di scontri politici molto accesi come dimostrato dagli incassi. Confermate infatti le risposte degli abbonati e di chi partecipa ai singoli spettacoli. Il prossimo appuntamento sarà per la notte di San Silvestro con il musical A Christmas Carol con Roberto Ciufoli. Recentemente però i consiglieri di opposizione Stefania Minora e Michael Immoviglia hanno riportato l'attenzione sul tema sicurezza. In particolare si riferiscono al certificato di prevenzione incendi che attualmente è ancora concesso in deroga. Di recente sono stati fatti dei lavori di adeguamento costati circa 300.000 euro spiegano per migliorare la resistenza al fuoco ma il certificato è rimasto in deroga. L'autorizzazione prevede che in ogni serata in cui si tiene uno spettacolo un tecnico debba sedere di fronte a un pc a guardare fisso il sistema informatico antincendio. Al costo, a carico di chi svolge lo spettacolo, sia esso il comune o un privato, di 671 euro a uscita.